Buon giugato le monde, buon giugato le monde Signori è arrivato il momento di una bella docetta Programmi per oggi, visitare Montpellier e con la scusa andare anche a ritirare Andare a comprare un pezzettino di... dai via Michael Ce la posso fare, praticamente l'altro giorno mentre scendevo dai tacchi mi si è rotta La sigaretta elettronica è caduta in terra perché l'ho messa in un punto strategico Quindi devo andare a ritirare E ancora questo ritirare, ma cos'è che ritiro? Devo andare a comprare l'automizzatore Cosa molto fondamentale però, queste Oggi c'è un vento che può ruvare Buongiorno panita, buongiorno Buongiorno panita E' bello Ok, pronti per un nuovo day Pronti per un nuovo day journey Vero Cody? Prontissimi La prima cosa che ho dovuto fare Buttare la spazzatura perché Qui ci sono i bidoni gratis Adesso andiamo a beccare qualche fenicottero rosa Nella natura Qui ci sono fenicotteri Fenicotteri? Non ci sono fenicotteri Ti vuoi di fenicotteri? Io non vedo fenicotteri Vieni dentro Cody li sta scrutando Che giornata pazzesca ragazzi Fighissimo No, la prima La prima Allora il parcheggino che c'era su park4night è questo Però non ci sta nemmeno una macchina Non capisco perché l'abbiano messo su park4night Comunque credo di averne già trovato un altro Lo so, spunto un po' troppo Fuori Vi faccio vedere anche da qua Però devo fare solo delle commissioni alla fine Poi vado via Non dormo qua Dai Cioè se mi fanno la multa per così poco Veramente Siete imbarazzanti Mi sembra più che onesto Un'ora e mezzo Quattro euro Facci dubbi Pettorina nuova per il mio bimbo Dato che andiamo in city Posso dire che non ci sto capendo niente Comunque è fighissimo, eh Montpellier Un sacco di gente Veramente tanta tanta gente Un posto che ti mette allegria Bello Mi piace Quindi ricapitolando L'automizzatore l'ho trovato Però mi manca ancora L'acqua Da far benzina C'è il pieno E' un'altra cosa per il computer Per scaricare i file E non l'ho trovato da nessuna parte Qui a Montpellier Ah Ghicchi C'ho fame Molto molto contento Di essermi fermato a Montpellier Perché è veramente bello Ti trasmette Un senso di positività Un senso di Enjoy the life Grazie sto a lì Ok Ok Sono riuscito a prendere questo 60 euro Più l'acqua Porca vacca Posticino anche questo Anche oggi Non siamo ancora arrivati Lo spot sarebbe questo Però C'è un po' di schifezza in terra Però niente male Qua mi sa che è meglio non infilarci Direi di no Forse ne ho trovato un altro Allora Praticamente si entra qui Non c'è su part for night Questo però Mentre venivo indietro E mi metto del traverso qua E c'è un lago lo stesso Però qua almeno è pulito Ed è super sicuro Va bene così Tanto la dinette C'è l'ho qua E' bello lo stesso Tac Io direi che posso stare qua Sì Decisamente Mangio qualcosa Lavoro un po' al pc Spero che il video di oggi Vi sia piaciuto A me Montpellier È piaciuta parecchio Lasciate un commentino Lo sapete che a me fa Un sacco piacere Seguitemi su Instagram Per vedere le cose Super in anteprima Iscrivetevi al canale E Basta Ho detto tutto Ci vediamo nel video di domani Ciao raga Ciao